All'Aquila, primo evento dedicato alla spumantizzazione abruzzese con masterclass e banchi d'assaggio. È stato Abruzzo in bolla, organizzato da Virtù Quotidiane, dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, ospitato nello splendido colonnato dell'emiciclo. Il primo spumante in Abruzzo risale al 1983. Oggi in Regione c'è un marchio collettivo, tra bocca, un brand per valorizzare tutti gli spumanti abruzzesi, prodotto con metodo italiano, a base di uve, trebiano, pecorino, passerina, montonico, cococciola, montepulciano, bianco e rosè. Qui abbiamo messo insieme chi fa il trabocco, chi fa lo spumante trabocco, quindi metodo italiano, chi fa il metodo classico e soprattutto abbiamo messo insieme, e questa è la cosa più bella, aziende grandi, cooperative, 3.000 soci, i vignaioli, quelli ad esempio che lavorano e conferiscono a Citra, piccoli vignaioli artigiani come Ciccone o Valente nella profonda provincia di Teramo, quindi c'è un po' di tutto. L'evento oggi qui all'Aquila che serve proprio a far conoscere le nostre bollicine, mettendoli insieme a quelle che sono anche delle nostre tipicità, dei nostri prodotti tipici, quindi cercare sempre più di far crescere la nostra bollicina, far crescere quello che è il nostro territorio e poi nel momento in cui abbiamo questa consapevolezza come sta maturando, affrontare quelli che sono i mercati. All'Aquila, critici gastronomici ed esperti del settore, con 12 aziende presenti, importanti, l'Abruzzo insomma vuol far parlare di sé. Io credo che non solo il pubblico, ma anche noi specialisti, in un certo senso, ci ha un po' sorpreso, no? Bruzzo in bolle, no? Perché? Perché uno non si rende conto che invece, magari uno assaggia, beve così, c'è consuetudine, ma non c'è un approfondimento, una focalizzazione. Ecco, questo evento secondo me è interessante proprio perché è mirato, non è generico, non è troppo trasversale, è un po' più mirato e questo secondo me fa bene alla causa. Con la tecnologia che abbiamo e soprattutto con la capacità che hanno sviluppato i produttori è possibile fare ottimi spumanti ovunque, non è più come 50 anni fa. Quindi l'importante oggi non è tanto fare ottimi spumanti, ma comunicarli. Questo è il tema di fondo e quindi l'Abruzzo, che ha già, diciamo, un buon brand, come si dice adesso, deve sfruttare questa opportunità perché le bollicine e gli spumanti sono un modo come l'altro per far esprimere l'uva.